Santa Croce del Lago, stazione di, Santa Croce del Lago, il treno, regionale, 56, 76, di Trenitalia, delle ore, 7, e, 2, per, Calalzo Pieve Cadore Cortina, è in partenza dal binario, 1, ferma a, stazione per l'Alpago, ponte nelle Alpi Polpet, Longarone Zoldo. Salute Grazie a tutti Grazie a tutti